Terminando siamo gli ultimi turisti che stiamo portando su a casa, direi che oggi abbiamo gestito questa emergenza in una maniera più che efficiente, quindi da questa notte che dicevo siamo qui noi siamo impegnati col sindaco e col vice sindaco, il servizio della protezione civile ma anche tutte le autorità provinciali, anche quelle sanitarie sono stati molto vicini, quindi direi che tutto sommato abbiamo, la macchina ha funzionato perfettamente. Ricordiamo che tutti gli ospiti sono stati fatti uscire, mentre invece per quanto riguarda i lavoratori, i titolari dell'hotel e chi ci lavora? I titolari in questo momento sono in un'osservazione fiduciaria, sono nelle loro abitazioni e quindi saranno controllati dai servizi sanitari. Direi che grossi problemi non ce ne sono, quindi tra poco anche la famiglia che gestisce questa struttura berriera rientra a casa, quindi verrà chiuso e adesso vedremo il dopo. Grazie. 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 Grazie a tutti.